Uè non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi posizione del fortbite di oggi il numero 63 si trova tra lande letali e a prodo avventurato Beh ragazzi la posizione è molto più semplice di quanto si pensi ci basta semplicemente Atterrare proprio qua ragazzi al benzinaio e come vedrete tra pochi secondi tra le due pompe di benzina sarà disponibile il nostro fortbite eccolo qua ragazzi fortbite 63 preso vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo tra poco in live ciao!